Catanoso, Tancredi. La votazione è chiusa. La Camera approva. Articolo 90. Dichiero aperta la votazione. Ci siamo? Carloni, Micillo. Altri? Bini. Non mi cada sull'ultimo voto, onorevole Bini. Chiaro o chiusa la votazione? La Camera approva. A questo punto sospendiamo l'esame del provvedimento che riprenderà a partire dall'esame e votazione delle proposte emendative accantonate nella parte pomeridiana della seduta, dopo il seguito della discussione delle mozioni in materia di riforma della legge elettorale. Sospendo quindi la seduta e riprenderà alle ore 15 con lo svolgimento dell'interrogazione e risposta immediata alla seduta sospesa. Grazie. 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 Grazie.